Un successo importante per voi? Sì, era importante vincere oggi per rimanere attaccati alle badesse e soprattutto giocando un giorno prima era fondamentale dargli un po' di fastidio, fargli giocare domani con un po' di pressione e ce l'abbiamo fatta. È stata una partita difficile, è un derby, ce l'aspettavamo, lo sapevamo, ma avevamo preparato la partita bene e credo che alla fine abbiamo meritato e con i denti siamo riusciti a ottenere questo successo. Il merito è stato quello proprio di sbloccarla per primi? Sì, diciamo che essere andato in vantaggio soprattutto due volte ci ha permesso di gestire un po' la partita poi l'episodio del gol del Foiano l'ha rimessa un po' e ci ha messo un po' in difficoltà però poi credo che abbiamo mantenuto sempre il pallino della partita rischiando anche su qualche ripartenza perché loro comunque impostano la partita su questo attacco della profondità però credo che poi alla fine qualche occasione per chiuderla l'abbiamo avuta non ci siamo riusciti ma il risultato poi ci ha premiato. Nell'intervallo cosa vi siete detto nello spogliatoio? Nell'intervallo nello spogliatoio un po' come tutte le domeniche, tutte le partite cerchiamo di affrontare quelle che sono le cose da migliorare in fase di possesso e di non possesso abbiamo analizzato che ci davano un po' fastidio sulle seconde palle nella zona centrale abbiamo cercato di accorciare un po' il campo e poi in fase di possesso abbiamo cercato di sfruttare un po' più le catene esterne perché era lì che potevamo fargli male. E nel finale ci voleva qualcosina in più per chiuderla prima? Sì, nel finale soprattutto per non rimanere in apprezzazione e non rischiare probabilmente ci voleva qualcosa in più per poterla chiudere però abbiamo avuto le occasioni sul tiro di Fanetti su cui poteva arrivare Pluchino la ripartenza finale di Cerofolini però insomma anche la stanchezza dopo 90 minuti di battaglia con un giorno o meno di allenamento e di recupero rispetto alle settimane normali diciamo che era prevedibile quindi siamo riusciti comunque a tenerci questo risultato e siamo contenti per il proseguo. Adesso bisogna continuare così? Adesso bisogna continuare così, il nostro obiettivo è quello di rimanere più attaccati possibile al Badesse e credo che stiamo dimostrando di poterci lottare questo campionato perché siamo a soli 2, 5, 3 punti insomma vediamo domani però noi siamo vivi, noi ci siamo e fino alla fine considerato anche che abbiamo lo scontro diretto in casa non molliamo e li daremo filo da torcere sono sicuro. Grazie. Prego. Grazie.